bella a tutti ragazzi e bentornati nel canale io sono brutal e oggi signori siamo su clash royale nel mio profilo solo per andare a vedere le ultime cose che mi stanno succedendo le ultime novità ma non andremo a combattere oggi ne faremo chest opening sul mio profilo perché signori dopo avervi fatto vedere le novità della quale una avrete già notata perché sono arrivato all'arena 8 dopo avervele mostrate tutte andremo sul profilo della mia ragazza perché ha due casse molto molto speciali da aprire che andremo ad aprire insieme e poi la vedremo combattere io vi commenterò perché lei non riuscirebbe a combattere e commentare nello stesso momento ho provato a chiedergli se ce l'avrebbe fatta ma mia risposta di no quindi io vi commenterò la battaglia in live ma combatterà lei ora non perdiamo altro tempo ragazzi andiamo subito a vedere tutte le novità che stanno succedendo al mio profilo dunque siamo arrivati signori all'arena 8 finalmente non ce la facevo più è stato veramente una cosa della madonna riuscire a superare l'arena 7 è stata veramente veramente molto dura il gioco mi ha mandato su e giù parecchie volte arrivando spesso al pelo dell'arena 8 ma poi rispedendomi giù quasi all'arena 6 e quindi poi giù di battaglie per rimontare ora sono finalmente riuscito ad arrivare all'arena 8 e mi voglio godere un pochino questo sfondo prima di tornare giù ora signori andiamo a vedere le ultime novità come vedete ho due carte da portare in app finalmente anche i nostri goblin di terra il nostro bomber riusciremo a portarli a livello 9 come le altre due comuni che ho nel deck e cosa importante anche per la collezione delle carte ho due carte nuove che ho trovato nei bauli argento e quelli omaggio che vi schippo una che sono le guardie eccole qui e la seconda carta finalmente ho trovato il pecca signori incredibile nello scorso profilo ce l'avevo a livello 3 in questo profilo invece mi sono arrivate un sacco di orde di scheletrini ben otto ma non riusciva ad arrivarmi il pecca grande non che io lo usi ma è soltanto per una questione di collezione a me piace avere le collezioni complete vorrei completare anche questa collezione di carte di questo gioco ragazzi andiamo ora a migliorare le nostre carte andiamo a spendere un bel po di oro dal nostro profilo ecco qui il bomber a livello 9 bomber che ragazzi è veramente una bomba e non è un gioco di parole ma è proprio forte come carta mi piace tantissimo purtroppo in futuro se riuscirò a trovare le leggendarie che dico io lo toglierò ma comunque mi farà veramente male toglierlo e andiamo a potenziare anche i nostri goblin di terra che anche loro sono veramente fortissimi dietro un tank fanno veramente il delirio ragazzi le novità sul mio profilo sono finite stiamo arrivando ad un buon punto anche del livello 8 nonostante che stiamo upgradando soltanto le carte che usiamo e ovviamente sale anche grazie alle donazioni signori io adesso vi saluto da questo profilo noi ci rivediamo nel profilo della mia ragazza tra pochissimo bella eccoci qui ragazzi siamo sul profilo della mia ragazza in questo momento ciao e adesso andremo a fare un chest opening sul suo profilo e come potete vedere ci sono delle casse parecchio particolari che io nel mio profilo ancora non ho trovato comincia pure andiamo subito col baule omaggio vediamo un pochino che cosa riusciamo a trovare abbiamo 63 di oro molto bene due gemme che non fa mai male 1022 gemme come hai fatto a metterle via non lo so sfera infuocata e ultima carta gigante royale più cancro di così non si può ma va bene lo stesso andiamo ora con la silver chest vai ok allora 52 di oro che va bene il cannone che non ce ne facciamo un cazzo i goblin che potrebbero andare bene andiamo con le casse pesanti adesso è baule della corona vai ok ragazzi qui la situazione si comincia a fare tesa 421 di oro due gemme gigante royale ancora mannaggia mega sgherro gigante ultima carta bombarolo minchia 46 bombaroli ciao almeno trovarli io nel mio profilo ok ragazzi adesso le casse importanti cominciamo con la cassa epica per poi finire con quella leggendaria siamo pronti andiamo ok oh mio dio subito così arco x ok ancora due opzioni tre veleno la veleno guarda che se la potenza è una carta forte ultima carta principe nero guarda che è buona come carta è tanta roba il principe nero ci sta di brutto ok in tutto questo ragazzi voi dovete sapere che la mia ragazza ha lorda di sgherri all'undici ma non ha nemmeno una carta leggendaria guardate che roba è quanto è che giochi è un anno un anno è più di un anno che giochi ancora non ha trovato una leggendaria quindi oggi la trovi per forza quale leggendaria speri di trovare scintilla oh mio dio ragazzi cerca la scintilla non possiamo far altro che augurarle una bella scintilla siamo pronti 3 2 1 vai col baule leggendario ed eccola qui scintilla ragazzi incredibile la chiesta ed è arrivata ragazzi la chiesta ed è arrivata ovviamente reazione non epica come se fossero un baule comune perché era normale che uscissero leggendaria ma tra tutte quelle che c'erano è arrivata quella che cercavi dai sono contento per te ora ragazzi la mia ragazza farà una battaglia in live e io ve la commenterò vediamo un pochino come va ok vediamo l'avversario ve la commento io ragazzi perché se dovesse commentare la mia ragazza e anche schiacciare per dire lo schermo andrebbe in confusione da dio subito estrattore ok è una carta che io vorrei mettere nei deck futuri ma che ancora non uso vediamo il nemico subito con una strega al 3 attenzione attenzione che la strega è un po' bastarla ok allora domatore e è un cazzo attenzione attenzione soltanto domatore da quella parte lì ok mini pecca direttamente addosso alla strega di cattiveria oddio 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 lorda eh lorda ragazzi lorda prosciuga il mondo eh lorda ragazzi prosciuga il mondo ok c'è uno moschettiere e gliel'abbiamo fermato lanciamo anche il bel barile di goblin e un pochino di danni si devono fare anche lui c'ha lorda attenzione però lui ce l'ha all'8 eh tu ce l'hai molto molto più alta qui sai l'11 ormai sei quasi al livello massimo il livello massimo delle comuni è il livello 13 ok secondo estrattore ok qui la situazione comincia a farsi pesante eh il nemico non ha neanche un estrattore e nemmeno ha cercato di togliertelo dalle palle quindi qui oddio mamma mia come ti sale l'elisir vai 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 di cattiveria vai di cattiveria mamma mia principe mini pecca ok ok un'altra carta ragazzi ok così cazzo se ne è andato un estrattore maledizione oddio si hanno fatto il delirio però quei cosi eh però l'hai lasciato con 300 di vita molto molto bene vai ferma tutte queste carte ferma queste carte oddia oddia ok un'andata l'altra pure l'orda di sgherri all'11 è veramente qualcosa di strapotente barile addosso alla strega peccato che gli hanno tolto il danno da impatto ok va subito con il domatore occhio dall'altra parte che stanno arrivando gli sgherri ok perfetto così e gli hai fottuto una torre vai di cattiveria eh baci di cattiveria occhio occhio bene 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 così non c'è un altro bel estrattorino da picchiare giù ok due estrattori più elisir doppio adesso si va a fare il delirio ragazzi si va a fare ermacello ermacello dai 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 no madonna qui bestemiosa la situazione non è molto messa in giù nooo devi fare in fretta devi fare in fretta cazzo è partita una carta minchia non doveva andare là al principe però comunque è riuscito ad arrivare sulla torre dai ecco non è riuscito ad arrivare sulla torre dobbiamo bloccare il gigante e la strega cazzo 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 oh no oh no raga no 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 occhio non è in piedi arrivo no 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 merda ok devi fermare tutto perché sennò la fine devi fermare quel cazzo il gigante devi fermare quella cazzo nooo mamma mia con 792 di vita sulla torre centrale pessimissimo ragazzi pessimissimo vabbè dai ragazzi comunque è riuscita a trovare la leggendaria che cercava quindi sono contento per lei io signori spero che questo video con anche la partecipazione della mia ragazza mi sia piaciuto se il video vi è piaciuto signori lasciate un mi piace un commento qui da brutal e la sua ragazza ciao è tutto bella raga ciao bella 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 Grazie a tutti